Sì, è una fregatura, secondo me. Perché è una fregatura? Perché si vede che c'è un cavo sotto e una piccola sedia, vestito in modo che non fa vedere la gente che c'è una piccola sedia. Ma non è che ha fatto qualcosa, perché vedete che il bottone è trasversale, non è di lì? E quindi? E quindi? Sì. 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 Sì.